Spacciavano eroina e cocaina vicino al campus scolastico quando li hanno arrestati di ritorno da Rimini, da dove si rifornivano di droga da nordafricani, ed avevano con loro 50 grammi di eroina e 15 di cocaina. Michele Righi, 46 anni, e Andrea Baldarelli, 32, disoccupati, entrambi pesaresi, già noti alle forze dell'ordine per reati di spaccio di stupefacenti, sono stati arrestati dagli agenti della questura di Pesaro. I due spacciatori erano seguiti e monitorati da tempo per capire i loro modus operandi. Preoccupante è il luogo in cui veniva condotta questa attività di spaccio, al minuto, al dettaglio, cioè erano località 5 torri, ma si spingevano anche in località, negli spazi antistanti il campus, il liceo scientifico, il Bramante. Beh, questo, insomma, stava parecchia preoccupazione, per cui siamo particolarmente soddisfatti dell'operazione conclusa e il materiale investigativo è in corso di valutazione e sviluppo. Da quanto si è preso smerciavano circa 350 grammi di eroina e 100 di cocaina al mese, per un volume d'affari stimato di 45 mila euro mensili. Il rapporto 1 a 3 tra eroina e cocaina si sta un po' invertendo la forbice o è un dato puramente statistico questo? È un dato che rappresenta un trend molto preoccupante in Italia. L'eroina, che prima era considerata pressoché inesistente oppure ridotta a frange insignificanti, sta riemergendo specialmente tra i giovani. E questa è una cosa molto, molto grave. Nutrito anche il carnet di clienti, tutti contattati attraverso il cellulare. Ora i due si trovano in carcere. Grazie.